Al termine della prima tornata elettorale che precede il prossimo ballottaggio per la poltrona di sindaco, gli azzurri di Forza Italia si sono messi davanti a tutti superando il 10% in attesa di capire chi tra i candidati varcherà la soglia dell'aula del Consiglio Comunale. Secondo il coordinatore cittadino del partito, Vincenzo Pepe, il risultato è frutto del lavoro fatto. Ritiene che sia stata rispettata una linea di coerenza nella lista. Infatti hanno trovato spazio, secondo Pepe, competenze e capacità. Il coordinatore non ha voluto inserire candidati da zero voti o cosiddetti riempilista. Così, secondo l'esponente azzurro, i dati premiano la scelta fatta. Per Pepe, se si vuole dare un futuro vero alla città, bisogna permettere di cambiare rotta, spendendosi appunto per la comunità e superando quelle che sono consuetudini, spesso in voga durante le elezioni amministrative. Pepe parla di coerenza pure verso il candidato a sindaco, Grazia Cosentino. Il riferimento, il patto largo, moderati centrodestra, il coordinatore azzurro, non sembra invece prediligere la strada delle grandi intese finalizzate al ballottaggio. Ritiene che sia una questione da valutare insieme agli alleati, ci sarà infatti una riunione dei coordinatori dei partiti. È però convinto che l'unica alleanza la coalizione la debba formalizzare con Filippo Franzone. Pepe vede in Franzone una vera novità che raccoglie i voti di protesta di chi vuole cambiare. Il coordinatore azzurro la pensa appunto come Franzone che è accorso per la sindacatura. Ritiene sia essenziale dare un taglio netto rispetto al passato. Quello dei berlusconiani è stato un risultato elettorale che in città ha mutato gli equilibri d'aria. Forza Italia ha scavalcato i meloniani di Fratelli d'Italia. Adesso attende di avere l'ufficialità dei candidati che accederanno al Consiglio Comunale, ma anche di potersi confrontare con l'ingegnere Cosentino e valutare il da farsi in vista delle urne per il ballottaggio.